... l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla web tv della Camera dei Deputati. Abbiamo l'audizione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, che ringrazio personalmente per averci orato della sua presenza. L'ordine del giorno appunto reca l'audizione del Ministro e chiede ringrazio. Il Ministro Calderone ha accompagnato il segretario particolare, il dottor Vicenzo Coppola, avverto il nostro ospite, che della presente audizione sarà redatto il resoconto scenografico e che se lo riterrà opportuno, consentendo alla Commissione, i lavori potranno proseguire in seduta segreta. Ricordo che in tal caso, per la parte di seduta sottoposta al regime di segretezza, saranno sospesi tutti i collegamenti da remoto che saranno tempestivamente riattivati e ripresi della seduta libera. L'audizione odierna rientra nell'ambito di un programma di audizione deliberato dall'Ufficio di Presidenza nella riunione del 25 ottobre scorso, che mira ad approfondire questioni di carattere generale sulle materie oggetto di inchiesta e sensi della legge istitutiva della Commissione legge 10 maio 2023, numero 53. Ricordo che nel corso della legislatura la Commissione ha ampliato i propri ambiti di competenza, dichiamata ad indagare non solo sugli illeciti connessi al ciclo dei rifiuti, ma su tutti gli altri illeciti ambientali e, da ultimo, anche su quelli agroalimentari. In particolare la Commissione svolge indagini sull'esistenza di attività illecite nel settore agricolo e agroalimentare, comprese quelle connesse a forme di cambiamento organizzata, commesse anche attraverso sofisticazione e contraffazione di prodotti agroastronomici, di etichettature, di marchi di tutela, compresi il loro traffico trasfrontaliero, anche ai fini dell'aggiornamento e del potenziamento della normativa in materia dei reati agroalimentari, a tutela della salute umana, del lavoro e dell'ambiente, nonché del contrasto del traffico illecito di prodotti con marchio made in Italy, contraffatti o alterati. Cedo dunque la parola al Ministro per lo svolgimento della sua relazione introduttiva, al tema della quale i colleghi parlamentari potranno rivolgere eventuali domande o richieste di chiarimento. Il Ministro mi ha anticipato che per altri impegni istituzionali avrà a disposizione circa 40 minuti, quindi a seguito della relazione lasceremo poi ai commissari le domande e poi quello che riusciremo a rispondere oggi stesso oppure per iscritto, vedremo come fare per dare chiarimento a tutti. Grazie. Grazie Presidenti, buongiorno, buongiorno veramente Presidente e commissari, grazie per avermi invitato a tenere questa audizione. Mi scuso per la voce terribile con cui farò qualche riflessione insieme a voi, però tenevo veramente a essere presente perché sono consapevole del ruolo che svolge questa Commissione bicamerale, dell'importanza e anche del fatto che in questa legislatura la Commissione ha ampliato, come diceva il Presidente, la propria attività partendo dal presupposto appunto di indagare su quelli che sono reati in contesti che sono estremamente importanti. Con riferimento ai temi trattati dalla Commissione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è competente innanzitutto sulle questioni che sono legate alle condizioni di lavoro, alla sicurezza, alla prevenzione dei rischi, nonché alle criticità che sono connesse alle crisi aziendali. Tra l'altro tema centrale del Ministero sono le nuove forme di sfruttamento dei lavoratori che spesso si legano alle attività illecite che sono oggetto di indagine di questa Commissione. Questi argomenti vanno senza di dubbio trattati all'interno di una cornice che tenga conto non solo della transizione ecologica in atto, che comunque in Europa è stata inserita tra i pilastri del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR e del programma europeo Next Generation EU. Poi spiegherò per quale motivo, perché voi sapete che all'interno di quelle che sono le missioni anche in gestione da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ci sono poi delle attività specifiche, come quella del contrasto al lavoro sommerso e della lotta al caporalato, che sono anche tema del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il contesto storico in cui ci muoviamo è caratterizzato da spinte innovative verso la transizione digitale ed ecologica del Paese e questo contesto sta determinando la rapida trasformazione dei processi, dalla produzione industriale all'erogazione dei servizi, con grandi prospettive di sviluppo, importanti ricadute in termini di produttività e competitività, ma anche nuovi scenari di rischio, da studiare per valutarne gli effetti sulla salute, considerando anche le modificazioni dell'organizzazione del lavoro e del mercato del lavoro. In questa relazione infatti voglio presentarvi anche una serie di riflessioni che sono oggetto anche dell'attività che sta facendo l'Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro, perché credo che sia importante anche comprendere qual è lo stato dell'arte. Affrontare i cambiamenti in prospettiva lavoristica significa migliorare, aggiornare e incrementare le forme di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con interventi che promuovono la ricerca, oltre che la cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. È necessario e opportuno un confronto interistituzionale che passa attraverso il dialogo con le forze sindacali, le organizzazioni datoriali, il mondo accademico, i livelli di governo. Un tema centrale per il Ministero è quello relativo alla tutela dei lavoratori esposti a particolari materiali pericolosi, come per esempio l'amianto. L'utilizzo di questo materiale è vietato dalla legge, tuttavia esistono ancora delle situazioni in cui i lavoratori, loro malgrado, si trovano ad averne contatto quasi quotidianamente. Pensiamo agli addetti alle attività di rimozione, bonifica e gestione dei rifiuti, sia per quanto riguarda i depositi temporanei che le discariche. In questo contesto gli operatori, se non sono correttamente formati e dotati di donne e misure di sicurezza e di dispositivi di protezione collettivi e personali, possono essere esposti a queste condizioni, a queste situazioni pericolose. Quindi, oltre alle misure di intervento, che sono ovviamente misure che vengono adottate a volte anche per contrastare qualcosa che è già avvenuto, è però opportuno pensare anche a delle forme di intervento preventivo, per esempio come i trattamenti per rendere le fibre di amianto inerti e questi trattamenti però sono ancora in una fase sperimentale. Per quanto riguarda le competenze del nostro Ministero, ricordo che con la legge di bilancio che abbiamo approvato, che il Parlamento ha approvato, è stato rifinanziato il fondo vittima amianto per un totale di 20 milioni annui per il triennio 2024-2026. Poi, come vi dicevo, noi abbiamo un'ampia attività che viene svolta dall'INAIL, che è uno dei soggetti più importanti, che si occupa di sicurezza. E io credo che sia importante, anche ai fini delle riflessioni che faremo dopo, tener conto anche di quello che l'Istituto farà nel 2024 con l'utilizzo delle risorse che sono state previste all'interno del bilancio di previsione, perché diciamo che sono sostanzialmente raddoppiate tutte quelle risorse che sono destinate alle politiche in materia di prevenzione, in materia quindi di sicurezza, con un'attenzione specifica a quei settori che sono particolarmente delicati, come per esempio il comparto agricolo, dove le misure di prevenzione devono essere assolutamente intensificate. Ed è un investimento che quest'anno sfiorerà 1 miliardo e 500 milioni di euro, quindi credo che questo sia un dato assolutamente importante da rappresentare i commissari, così come è importante dire che per la prima volta il bando ISI, che è poi un bando che mette a disposizione risorse per le aziende che vogliono impegnarsi in percorsi virtuosi, non solo dal punto di vista della gestione corretta dei rapporti di lavoro, ma anche della gestione di tutti gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro, per la prima volta il bando ISI avrà più di 500 milioni di euro a disposizione. E in questo contesto molto viene declinato e quindi messo a disposizione proprio per quei settori che sono anche oggetto delle vostre attività, in primis l'agricoltura. L'INAIL è impegnato da tempo anche iniziative che devono migliorare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, anche attraverso la sottoscrizione di importanti protocolli d'intesa. Ve ne voglio ricordare uno perché credo sia importante per le vostre riflessioni. Il 14 di novembre è stato rinnovato il protocollo con Utilitalia e la Fondazione Nazionale Sicurezza Rubes Trives ed è un protocollo relativo alle attività connesse al ciclo dei rifiuti e dei servizi ambientali. Da qui derivano una serie di sperimentazioni. Una è relativa ai flussi di comunicazione sugli infortuni e le malattie professionali, funzionale alla promozione di politiche di prevenzione e miglioramento della tutela della salute degli infortuni e tecnopatici. L'altra sperimentazione invece è relativa al settore degli appalti e in particolare all'indicatore RSP che è il rating di sinistrosità prevenzione che attribuisce alle società che partecipano alle gare pubbliche per appalti di opere un punteggio aggiuntivo legato agli indici infortunistici e a profili di organizzazione e gestione della salute e sicurezza in azienda. Sono tutte misure che possono ritenersi anche, come dire, slegate tra di loro ma che invece hanno un obiettivo perché nel momento in cui si inseriscono anche degli indicatori specifici per le aziende che partecipano agli appalti e questi indicatori specifici sono connessi alla correttezza della gestione dei rapporti di lavoro e anche di tutte quelle norme come la tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori. Questo è un modo anche per contrastare quelli che invece sono i fenomeni di caporalato e di lavoro sommerso che anche nell'ambito della filiera degli appalti in taluni casi sono evidenti. Anche perché vorrei sottolineare ai commissari, ma credo che non sia ovviamente necessario, che oggi il solo documento unico di regolarità contributiva, quello che attesta la regolarità nel versamento dei contributi previdenziali, è certamente un documento importante, ma certifica quella che è la realtà apparente. Se poi quella particolare azienda, invece, oltre a avere dei lavoratori che sono regolarmente denunciati e assicurati, ha anche una gestione di lavoratori che invece non hanno una condizione di questo tipo, cioè quella di regolarità, quello non è intercettabile con il DURC. Quindi tutte quelle che sono le ulteriori condizioni che ci consentono di comprendere in che modo l'azienda poi vuole declinare all'interno di un contesto competitivo come quello degli appalti, la regolarità contributiva e contrattuale e il corretto adempimento di altri obblighi in materia di salute e sicurezza ci consente di capire se abbiamo a che fare con un'azienda regolare. Credo che questo sia importante perché in un settore, per esempio, come quello della gestione dei servizi ambientali, questi temi poi si intrecciano certamente fortemente con la salute dei lavoratori, ma anche le modalità con cui vengono gestiti gli appalti. Guardando propriamente ai temi di questa Commissione, sappiamo che ormai da quasi dieci anni il Codice Penale disciplina una serie di delitti a salvaguardia dell'ambiente, tra i quali, per quanto di interesse l'inquinamento ambientale, il disastro ambientale, l'impedimento del controllo e l'omessa bonifica. L'inquinamento ambientale in particolare, inteso in termini di contaminazione del suolo e del sottosuolo, va a avere degli effetti diretti e indiretti sui lavoratori. Molto spesso su siti contaminati insistono sia attività industriali e commerciali che aree residenziali o agricole. I fruitori di queste aree sono pertanto esposti a un rischio cronico per la salute, dovuto all'ingestione e al contatto dermico con le sostanze pericolose presenti negli strati più superficiali di terreno e all'inalazione con le sostanze che dal suolo e sottosuolo vengono rilasciate in aria ambiente sotto forma di vapori o di polveri. Tuttavia, la bonifica di questi siti, allo stesso modo della messa in sicurezza di discariche abusive, richiede inevitabilmente per gli operatori direttamente coinvolti in queste attività un'interazione diretta da cui possono derivare livelli di esposizione critici. E' quindi necessario che tutte le aziende coinvolte siano informate riguardo l'entità e la tipologia della contaminazione dell'area al fine di tutelare adeguatamente i propri dipendenti mettendo in atto le opportune misure di prevenzione e protezione. I dati che ci fornisce INAIL sulla base del rapporto ISPRA 2021 e il rapporto più recente che abbiamo sullo stato delle bonifiche ci dicono che in Italia la superficie dei siti contaminati è pari a 2.400 km2, ovvero lo 0,80% della superficie del territorio nazionale. Di questi 41 siti contaminati di interesse nazionale occupano 1.721 km2, quindi pari allo 0,57% del territorio nazionale. Il contributo alla contaminazione dei suoi italiani da parte delle discariche abusive non controllate o non adeguatamente gestite pari al 40% che è ripartito tra discariche per rifiuti urbani e per rifiuti speciali. La competenza per la procedura di bonifica non è attribuita al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ma è attribuita al Ministero dell'Ambiente, come ben sapete, anche se per quanto riguarda il Ministero del Lavoro, invece noi ci occupiamo di tutte quelle attività che devono essere svolte laddove ci sono degli insediamenti abusivi in territori contaminati, proprio perché l'attività che viene svolta di bonifica di un territorio e di un ambiente contaminato ha delle ripercussioni anche su quelli che sono degli insediamenti abusivi anche molto popolosi, spesso anche caratterizzati da una presenza di lavoratori che magari operano all'interno di alcuni settori specifici, come quello dell'agricoltura. In questo il Ministero del Lavoro è titolare di azioni all'interno di quello che è il piano nazionale di ripresa e resilienza con specifico riferimento agli interventi sull'inclusione sociale. Ovviamente il tema della tutela dei lavoratori è connesso anche e non solo relativamente alle condizioni di salute e sicurezza ma anche a quello di cui vi occupate voi, ma anche a quello dello sfruttamento dell'attività lavorativa. È infatti, dicevo, un dato assodato che molto spesso i reati ambientali commessi dalle cosiddette eco-mafie si accompagnino a forme di sfruttamento dei lavoratori e non a caso è una questione importante per il nostro Ministero. L'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro che costituiscono gli elementi propri del caporalato integrano il reato di cui all'articolo 603 bis del codice penale. Nell'ottica di dare una piena attuazione alla legge sul caporalato sono stati realizzati diversi interventi che sono rivolti al potenziamento dei centri per l'impiego al fine di gestire in maniera trasparente i flussi di domanda e offerta di lavoro, nonché alla messa a disposizione di servizi di trasporto e di alloggio sicuro e alla incentivazione delle imprese agricole che rispettino tutti i diritti dei lavoratori. Al fine di contrastare il caporalato e i fenomeni distorsivi del mercato del lavoro, soprattutto nelle aree agricole, è stata elaborata una strategia a multilivello che vede coinvolte una pluralità di amministrazioni centrali e locali. Vi segnalo il tavolo nazionale per la definizione della strategia di contrasto allo sfruttamento lavorativo, ancora per quanto riguarda il piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso che è stato adottato nel 2022, la stretta connessione di questo piano per il sommerso con quanto, dicevo prima, è previsto in materia dal piano nazionale di ripresa e resilienza. Il tutto rientra all'interno degli obiettivi che sono previsti dalla missione 5, componente 1, la riforma 1.2, rappresenta per l'Italia l'opportunità di dotarsi di una strategia stabile che valorizzi il ruolo e le sinergie tra i vari attori che sono coinvolti nella prevenzione e nel contrasto del lavoro irregolare. Io prima ho parlato certamente per le sue competenze dell'INA, l'importante ruolo dell'IMSS, dell'Ispettorato nazionale del lavoro, del coordinamento del Ministero del Lavoro, ma anche di tutti quei soggetti che a vario titolo hanno comunque titolarità per quello che riguarda anche un'analisi importante come tutto quello che poi attiene al contrasto del caporalato. Il piano ha l'obiettivo di realizzare delle azioni specifiche di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso in relazione ai settori produttivi che appaiono in base alle evidenze statistiche maggiormente esposti alla diffusione del lavoro irregolare, in primis quello agricolo. Le azioni sono chiaramente delineate in linea con le indicazioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tra cui l'introduzione di misure dirette e indirette per trasformare il lavoro sommerso in lavoro regolare, quindi l'emersione del lavoro irregolare, l'introduzione di misure per favorire l'impiego regolare di lavoratori stranieri in agricoltura attraverso il contrasto agli insediamenti abusivi e la promozione di azioni politiche attive. C'è ovviamente anche per quanto riguarda l'azione 3 il potenziamento dell'attività di vigilanza che deve essere accompagnata da una più efficiente attività di pianificazione degli interventi ispettivi. Il Piano si propone di sperimentare misure indirette di politica attiva rivolte ai lavoratori più fragili per prevenire il rischio che possano cadere nelle maglie del lavoro irregolare e dello sfruttamento, ponendosi sul punto anche in sinergia con le azioni che sono previste dal piano triennale di contrasto al caporalato. Le iniziative sono tante ma soprattutto sono significativi target che noi dobbiamo raggiungere. L'incremento nella misura di almeno del 20% del numero di ispezioni rispetto al periodo 2019-2021, il target va raggiunto entro la fine del 2024. Per quelle che sono le risultanze attuali dell'attività ispettiva che è stata condotta nell'ultimo anno e quelle che sono le previsioni per il 2024, il target riteniamo che sia assolutamente raggiungibile. Abbiamo recentemente anche inserito nuovo personale in organico per quanto riguarda l'ispettorato nazionale del lavoro con l'ingresso di 800 ispettori tecnici che hanno anche e avranno una particolare formazione soprattutto legata alla materia della salute e sicurezza sul lavoro e quindi anche del contrasto di quelli che sono dei fenomeni appunto distorsivi del mercato del lavoro che sono anche legati al tema della sicurezza. E poi l'altro target è la riduzione dell'incidenza del lavoro sommerso di almeno due punti percentuali nei vari settori economici. In questo caso ci sono anche delle risultanze dell'attività ispettiva che vi possono interessare e che vorrei condividere con voi. Tra il primo dicembre del 2022 e il 30 novembre del 2023 risultano essere stati effettuati 1.670 accessi e verificate quasi 9.900 posizioni lavorative, 2.380 delle quali, quindi circa il 24%, sono risultate irregolari. Il tema di cui stiamo parlando è ovviamente quello legato al lavoro sommerso e al caporalato in alcuni settori specifici. Di queste posizioni 940 risultano lavoratori impiegati totalmente in nero, quindi totalmente sconosciuti a quelli che sono gli archivi statali. Circa il 40% della platea dei lavoratori irregolari e 132 le vittime di caporalato identificate, quasi tutte extracomunitarie. Il 57% di questi era in possesso di regolare permesso di soggiorno. Per quanto riguarda invece l'attività ispettiva ordinaria, nel solo 2023 sono state identificate altre 822 vittime di caporalato e sfruttamento lavorativo. Penso che questi dati siano importanti, soprattutto per le analisi che voi farete, per capire e anche comprendere meglio qual è l'urgenza della questione e la necessità di proseguire e implementare, anche attraverso gli strumenti che ci mette a disposizione il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le azioni per certamente contrastare questi fenomeni ma anche prevenirli. Poi lo scorso 23 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il disegno di legge di ratifica del protocollo sul lavoro forzato, adottato l'11 giugno 2014 nel corso della 103esima sessione della Conferenza internazionale del lavoro dell'OIL e attualmente all'esame parlamentare. Credo che sia importante sottolineare in conclusione le connessioni evidenti che esistono in ambiti che sembrano solo apparentemente molto distanti tra di loro. Questo è ancora più evidente in una società globalizzata senza confini in cui le interconnessioni ci richiedono di pensare e agire non per compartimenti stagni e bensì in chiave intersettoriale. Quindi dobbiamo adottare strumenti sinergici che promuovano la tutela dell'ambiente, inteso come sistema salubre in cui condurre la nostra esistenza quotidiana e anche la nostra esistenza lavorativa. È un circolo che noi dobbiamo cercare di intendere e vedere come un circolo virtuoso in cui una politica ambientale rispettosa di quelle che sono ovviamente le condizioni in salute e di sicurezza dei lavoratori poi si traduce anche in condizioni di lavoro migliori e soprattutto anche in percorsi di tutela della salute delle persone che passano attraverso e anzi soprattutto attraverso la regolarità dei rapporti di lavoro. Io mi fermerei qui Presidente. Voglio ribadire quanto gentilmente il Presidente ha detto prima, cioè che al di là della limitatezza del tempo che abbiamo a disposizione, me ne scuso già, però sono a disposizione oltre che per tornare in presenza anche eventualmente per dare le risposte qualora fosse necessario fornirveli per iscritto con un ulteriore approfondimento. Grazie e scusate ancora per la voce. Grazie Ministro. Io lascio subito la parola a Petrucci. Sì, grazie. Per l'intervento dico che mi ha fatto molto piacere sentire sempre la parola formazione, finalmente prevenzione, quindi si previene e non si cura. Forse l'aspetto che è più risaltato in questa relazione è stata proprio parlare sempre di formazione e questo rapporto coeso che ci dovrà essere tra vari ministeri, quindi non solo il Ministero del Lavoro ma anche Ambiente e Agricoltura, perché si parla di siti inquinati, persone che lavorano all'interno di siti inquinati, l'inquinamento porta dei danni all'agricoltura e quindi anche alle persone che ci lavorano. Questo diciamo che è fondamentale inquadrarlo sia da un punto di vista normativo ma anche poi umano, perché far capire in realtà quale è l'obiettivo. Io vorrei semplicemente sapere se in questo anno, parlando di formazione alle varie aziende, come hanno recepito questo input e soprattutto se si stanno adeguando. Grazie. Io farei intervenire a tutti e poi dopo raccogliamo. Ci sono altre domande? L'orefice? Sì Presidente, grazie, grazie Ministro per le informazioni e la relazione che leggeremo con attenzione. Allora io le chiedo, perché lei ha fornito diversi spunti, ma anche mantenere un collegamento con quella che è l'attività della nostra Commissione. Noi di recente siamo stati nella terra dei fuochi, in particolare nell'area vasta di Giuliano e in quel contesto abbiamo visto delle aree fortemente degradate, campi rom e nelle interlocuzioni con i soggetti del territorio abbiamo compreso che al di là delle competenze squisitamente regionali e territoriali, perciò gli enti locali. Se ci sono delle interlocuzioni con il Ministero di riferimento, in questo caso il suo, per politiche attive al contrasto di quelle che sono le vaste sacche di disagio sociale e il correlato lavoro illecito, perché dove c'è disagio sociale non c'è da formazione e in quei contesti che culturalmente hanno altri problemi, se lo Stato non interviene in maniera diciamo anche centrale, perciò dando delle direttive univoche, uniche a livello nazionale, non lasciando alla libera iniziativa i Presidenti di Regione o i Sindaci, se voi state già pensando a un piano nazionale che possa dare una mano di aiuto reale a mitigare, allenire quelle ferite del Paese, perché dal mio punto di vista, dal punto di vista della mia forza politica, senza un intervento da parte del Governo gli enti locali rischiano di andare ognuno per una propria strada e avvanificare quelli che possono essere gli obiettivi comuni e finali. Poi le chiedo, lei ha parlato chiaramente di INAIL e INL, quali sono realmente il numero di nuove forze in campo, lei ha parlato di nuovi ispettori, ispettori tecnici, se questo trend di nuovi concorsi e inserimento di nuovi ispettori continuerà, quali saranno negli anni a venire o in quest'anno in particolare se ci saranno nuovi concorsi e se poi nel modo specifico, non so se lei ha conoscenza, se l'INL per il caso Malagrotto, per lei Malagrotta sono stati fatti gli interventi delle ispezioni puntuali, cioè prima di invitare anche il Presidente magari a sentire in audizione l'ispettorato del lavoro o l'INAIL, perché incrociando queste informazioni riusciremo a capire se ARPA, INL e tutti i soggetti che normalmente svolgono attività ispettive abbiano posto attenzione a quella che è la più grande discarica non solo d'Italia ed Europa e che ha una moltitudine di criticità ambientali ma con delle correlazioni dirette. Noi a fine visita ispettiva oggi siamo stati accolti, il Presidente ha anche interagito con i comitati locali che hanno messo in evidenza che cosa? Poca comunicazione con gli enti territoriali e una certa diffidenza nei confronti dello Stato, cioè nostro. Pertanto noi il segnale che dovremmo mandare è quello di non solo di vicinanza e tramite gli organi preposti far capire che lo Stato c'è, ci sarà e potrà anche dare però con dei segnali chiari per un'area vasta come quella di Malagrotta magari un far riprendere come dire, riconoscere lo Stato un amico e non un nemico. Grazie. Ci sono altre domande, collegati non vedo, quindi faccio io una domanda sull'utilizzo dei voucher in agricoltura, esistono dei dati in cui è possibile valutare l'utilizzo dei voucher come strumento alla lotta al caporalato, in particolare questo strumento può essere così dato un potenziale limite al fenomeno del caporalato, quindi chiedo cosa ne pensa il governo, cosa pensa il ministro e quali controlli che poi ha in parte risposto già a quella relazione, quindi sono stati eseguiti dall'INAIL appunto per assicurare in materia di sicurezza, di salute i lavoratori in questo periodo, in questo governo. Grazie. Grazie Presidente, grazie anche ai commissari per le loro domande, cercherò di rispondere a tutte e poi laddove è necessario anche fornirvi qualche dato specifico, ve lo farò avere, ovviamente anche qualora fossero dati riservati lo trasferiremo in questo senso. Però per quanto mi ringrazio veramente per l'accento sul tema della prevenzione e della formazione, io credo che sia assolutamente fondamentale non impostare tutti i nostri ragionamenti e le nostre politiche solo in azioni a contrasto di qualcosa che già è avvenuto, perché credo che quello debba avvenire ed è necessario che così sia, ma vorrebbe dire ovviamente affrontare sempre il problema partendo da un'analisi successiva e soprattutto da qualcosa che poi ha già prodotto delle conseguenze negative. Ovviamente su questi temi, sulla sensibilizzazione al lavoro regolare e soprattutto al fatto che lavorare in modo regolare è un vantaggio non solo per il lavoratore ma è soprattutto un vantaggio anche per l'azienda, perché non è un grande risparmio per un'azienda quello di non dichiarare correttamente quelle che sono le forze lavoro impegnate quotidianamente nell'attività aziendale. Prima di tutto perché, vorrei dirlo con molta chiarezza, gli strumenti per verificare che qualcosa non torna, ci sono tutti. Basta saper leggere i numeri, leggere i dati, far parlare le banche dati. Questo credo che sia già fattibile, sia già nella disponibilità dello Stato. Io vi ho fatto un esempio che voleva essere, come dire, veramente una semplificazione ma anche un'indicazione del fatto che alcuni strumenti che noi abbiamo a disposizione certamente certificano la veridicità di quelle che sono le informazioni dichiarate, ma non necessariamente quelle che sono invece tutte le situazioni che poi interessano un determinato ambito aziendale. Però c'è la possibilità di verificare anche mettendo in relazione per esempio quello che è il sistema dei conti di un'azienda con quella che è l'incidenza del costo del lavoro e l'incidenza media del lavoro che è richiesto per determinate lavorazioni per capire che qualcosa non va. Quindi quando noi pensiamo all'azione a contrasto e anche all'attività ispettiva dobbiamo sempre di più fare in modo che anche il personale ispettivo non solo si parli per quelle che sono le specifiche competenze. Voi sapete che l'Ispettorato nazionale del lavoro è nato con un'idea che era quella di mettere a sistema e anche razionalizzare tutti i corpi ispettivi proprio per creare quella sinergia che poi potesse portare a fattore comune tutte le informazioni nella disponibilità dell'Inail, nella disponibilità dell'Inps e certamente nella disponibilità dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del nucleo tutela condizioni di lavoro dei carabinieri ma anche della Guardia di Finanza. Noi abbiamo sottoscritto anche degli accordi e delle convenzioni con la Guardia di Finanza anche per quanto riguarda l'attuazione del decreto primo maggio perché riteniamo importante anche intensificare le nostre azioni di controllo e lo stiamo facendo mettendo in sinergia tutte le informazioni perché questo è importante ai fini anche di una corretta programmazione dell'attività ispettiva onde evitare che ci siano aziende che vengono verificate magari dieci volte in pochissimo tempo e altre aziende che invece per una questione anche di pianificazione e di numeri e di forze in campo a disposizione poi invece magari non vengono verificate per tanto tempo. Quando mi chiedete quali sono le forze che abbiamo a disposizione e soprattutto se c'è anche un'attenzione al fatto di andare a ampliare anche il numero degli ispettori a disposizione ho fatto riferimento al fatto che recentemente sono entrati in servizio 800 ispettori con qualifica tecnica però la attività di reclutamento dell'ispettorato nazionale del lavoro è di 1300 ispettori quindi abbiamo ancora dei margini certamente devo dire che qualche difficoltà nel reclutamento per lo meno nella presa in servizio del personale c'è anche per la competizione in questo momento esistente tra pubbliche amministrazioni e anche enti locali che anche per effetto del piano nazionale di ripresa e resilienza hanno avviato i bandi per le assunzioni. Voglio dire che c'è più possibilità di scelta quindi capita spesso che dei vincitori di concorso o dei soggetti idonei in graduatoria poi contemporaneamente acquisiscano anche delle altre idoneità e quindi possano scegliere. Credo che sia certamente utile per l'interessato che ha la possibilità di valutare quale attività lavorativa ritiene più coinvolgente però c'è un problema nel momento in cui dobbiamo completare un reclutamento però mi sembra di poter dire invece proprio guardando ai nuovi 800 ispettori tecnici che abbiamo reclutato veramente dei giovani preparatissimi e che hanno anche molta attitudine molto entusiasmo e che soprattutto hanno la volontà di dare un contributo fattivo a quelle che sono le attività dello Stato perché avete ragione importante anche far comprendere qual è la modalità con cui si esercita anche un'azione ispettiva e quello di dire che lo Stato non si volta dall'altra parte e che soprattutto in contesti così delicati come quelli che sono oggetto della vostra attività invece lo Stato è presente e non attribuisce o non non si sposta di lato rispetto a quelle che sono le sue responsabilità. per quanto riguarda la domanda specifica fatta sulle attività ispettive relativamente all'area di Malagrotta ma anche a tante altre aree che hanno delle specificità e delle caratterizzazioni particolari vi farò avere una informativa riservata ovviamente soprattutto se ci sono attività in corso però ecco devo dirvi che tutto è monitorato anche perché il Ministero del Lavoro come vi dicevo precedentemente ha comunque una titolarità relativamente a quelle che sono le attività da portare avanti insieme ai comuni per la gestione di quelle che sono discariche abusive su cui ci sono degli insediamenti abitativi e quindi ci sono delle case o comunque delle situazioni abitative e su questo noi avevamo abbiamo un percorso all'interno del piano nazionale di ripresa e resilienza per il quale proprio nell'ottica di sinergia tra tra ministeri non avendo noi una competenza in materia infrastrutturale perché non abbiamo il genio civile non abbiamo all'interno degli organici del Ministero del Lavoro le professionalità tecniche per poter elaborare delle soluzioni abitative che passino dalla bonifica dei siti alla costruzione dei moduli abitativi abbiamo chiesto l'intervento anche del Ministero delle Infrastrutture e poi certamente del Ministero dell'Ambiente perché riguarda le bonifiche soprattutto in materia ambientale però è importante la sinergia così come è importante non lo dimentico il tema della formazione in termini di prevenzione quello che dobbiamo fare sempre di più è far comprendere il costo sociale del sommerso dello sfruttamento e soprattutto anche il costo sociale di tutto ciò che rimanendo sullo sfondo non parla di progresso e soprattutto anche di utilizzo di tutte quelle che sono invece le pratiche corrette anche di gestione non solo del rapporto di lavoro ma anche della tutela della salute delle persone quindi informare e prevenire è importante voi sapete che con il decreto primo maggio noi abbiamo introdotto anche la protezione inail per i ragazzi gli allievi delle scuole di ogni ordine grado e il personale docente non docente perché per noi era importante mettere un punto e far comprendere quanto oggi parlare anche di tutela contro gli infortuni sul lavoro vuol dire parlare di vita sicura in un'accezione molto più ampia che quella non solo di pensare a un comportamento che deve essere confinato all'interno del mondo del lavoro e del rapporto di lavoro ma deve stendersi a tutti i momenti della vita perché una delle più alte incidenze di infortuni infortuni gravi è quella degli infortuni che avvengono in ambito domestico che a volte sfuggono anche al censimento allora parlare di prevenzione vuol dire proprio affrontare i temi a tutto campo mettendo anche a disposizione tutte le nostre risorse che sono anche quelle ovviamente degli enti vigilati dell'inps e dell'ina in nel caso di specie per quanto riguarda la domanda fatta dal presidente in ordine ai voucher in agricoltura io credo che proprio la normativa che è stata introdotta nel a inizio 2023 con la legge di bilancio 2023 sul comparto agricolo dia la dimostrazione di quanto il tema poi del lavoro accessorio o della prestazione del contratto di prestazione occasionale in agricoltura invece sia stato trattato con molta sensibilità prima di tutto perché il i lavoratori agricoli che avranno e sono addetti a lavori occasionali hanno un tetto di giornate massime da mettere da poter essere utilizzate per questa tipologia di rapporto di lavoro il pagamento non può essere inferiore l'importo del voucher giornaliero non può essere inferiore a quella che è la retribuzione prevista dai contratti collettivi maggiormente rappresentativi quindi stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative c'è il versamento integrale della contribuzione c'è anche la l'inserimento delle giornate all'interno di quelle che sono le giornate che vengono computate i fini poi del godimento di tutte quelle che sono le indennità e quindi per esempio di disoccupazione agricole e nel momento in cui si supera il tetto massimo di giornate per il contratto di prestazione occasionale c'è la trasformazione del rapporto in tempo indeterminato quindi lì c'è stata una bella sinergia con le organizzazioni datoriali e sindacali del mondo agricolo e si è individuata una una forma di vogliamo chiamarli voucher io richiamo contratto di prestazione occasionale che risponde all'esigenza invece di non individuare in questo strumento una forma di ulteriore precarizzazione questo è un modo per tracciare invece anche il lavoro di breve durata tracciarlo renderlo regolare e inserirlo all'interno di quelli che sono gli archivi della manodopera agricola quindi ritengo anzi questo strumento uno strumento che può insegnare molto anche ad altri settori questo per quanto mi riguarda mi fermerei qui presidente grazie noi la naturalmente la ringraziamo per questa audizione per la sua disponibilità e dichiaro la seduta conclusa grazie scusami ma ci mancherebbe proprio finendo la voce è gentilissima